Il più cordiale buon lunedì e buon inizio settimana da Maria Beatrice Crisci, le audio news di OndaWeb TV, le notizie positivo. L'Università degli Studi della Campania Luigi Vambitelli, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, presenta la rivista digitale Poligrafia. Appuntamento nell'Aula Appia per mercoledì 4 marzo alle ore 11. Ad aprire i lavori sarà il Rettore Giuseppe Paolisso. A ritrovo del lettore questa settimana si legge e si commenta il romanzo Lo straniero di Albert Camus, appuntamento mercoledì 4 marzo alle ore 21 nella sede di via Marchesiello, numero 169 al Parco Francesca, naturalmente a Caserta. Il 6 marzo alle ore 18 nell'accogliente showroom Chillesa in via Santa Maria Capovetere 55 a Capua, la presentazione di Felici a 50 anni, un libro manifesto scritto da Claudia Rebellino Becce e Maria Micaela Bellisario. A fare gli onori di casa l'imprenditrice Bianca in bimbo. Dalla lettura all'arte, mostra di Fernando Falconi e Michele Peri, dal titolo Frammenti a cura di Angelo Pagliaro. Inaugurazione sabato 7 marzo alle ore 18.30 presso lo studio Il Castello in corso primo ottobre a Maddaloni. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo su ondawebtv.it. Le audio news sono offerte da Trefarine Racconti di Gusto.